Cosa pensa della situazione oggi Israele e Gaza? Dato che Gianni parlava della politica estera in generale, non mi stupisce ormai rispetto all'euratantrismo degli esponenti o del Partito Democratico, giornalisti progressisti chiamiamoli in questo modo siano del tutto d'accordo con il governo dei Fratelli d'Italia per quanto riguarda la politica estera anche un esempio per me di quello che definisco l'establishment e di come si comporta il potere in Italia. Prima di arrivare Floris alla guerra in Medio Oriente, la carneficina a danno della popolazione palestinese vorrei ricordare a tutti che la controoffensiva ucraina finanziata anche dal nostro paese con armi e con sanzioni che hanno colpito maggiormente la nostra economia è fallita. Per due anni ci hanno detto che sarebbe funzionata, che l'Ucraina avrebbe conquistato territori per spingere Putin al negoziato abbiamo speso dei denari, ci siamo fatti di fatto le autosanzioni dato di oggi il volume di scambi commerciali tra la Russia e i paesi asiatici è raddoppiato rispetto all'anno scorso il prodotto interno lordo della Russia è cresciuto e crescerà ancora anche nel 2024 oggi invece per quanto riguarda l'Italia il dato è stagnazione per quanto riguarda il terzo trimestre di quest'anno. Le risponderebbero come su Israele, ci sono dei principi, nel momento in cui Israele viene attaccata bisogna essere No, non c'è nessun principio nel stare oggi dalla parte di Israele che sta massacrando una popolazione non si tratta di principio, si tratta di pavidità. Come? Conoscendo la Meloni, perché io sono stato parlamentare insieme conoscendo le idee di una parte dei parlamentari di Fratelli d'Italia, conoscendo le idee di Salvini che andava nella piazza rossa in Krasnaya Ploschatz con la maglietta di Putin, io sono convinto che loro si siano piegati, si sono piegati ai diktat americani di Washington, i quali come sapete hanno combattuto anche sulla pelle degli europei una guerra per procure in Ucraina e i risultati sono sotto gli occhi di tutti tantello dico a tutti i cittadini italiani che non si parla più della guerra in Ucraina e anche prima, prima del 7 ottobre scorso non se ne parlava più per quale motivo? Perché è fallita la strategia occidentale che è stata fatta anche sulla nostra pelle e sulla pelle degli ucraini. Oggi Jeffrey Sachs, che è un grande economista, insegna la Columbia anche esperto di conflitti internazionali, ha rilasciato una dichiarazione di rompente in cui definisce la guerra, diciamo, di logoramento in Ucraina vinta dalla Russia Ma perché sta parlando dell'Ucraina? Perché ci arriverò dopo Non abbiamo così tanto tempo Beh, ci arriverò perché è Biden che ha unito le questioni Quando Biden ha chiesto al congresso 100 miliardi di euro, 70 da mettere di nuovo sull'Ucraina e 30 per sostenere Cos'anno in comune? L'Ucraina è stata in base, Israele è stato attaccato ai terroristi Lei stava parlando della politica estera, diciamo, della geopolitica telana Il comune qual è? Che l'Italia non ha nessuna autonomia politica che aspetta gli ordini oggi di Washington e di Tel Aviv Non si è schierata a favore dei diritti umani minimamente Anzi, si è astenuta all'ultima votazione in maniera vergognosa dell'Assemblea delle Nazioni Unite che ha votato una risoluzione per il cessato del fuoco e l'Italia in maniera veramente pilatesca Io mi rivolgo a Giorgia Meloni, che è pure mamma Guardi, lo dico proprio senza polemica O si rende conto che il silenzio la renderà complice di massacri, di genocidi e anche di crimini contro l'umanità oppure si deve rendere conto che forse fare il Presidente del Consiglio in un paese così importante non è affar suo Diciamo che è piuttosto avvilente, ripeto, anche Fanciullisco che è un esponente, diciamo, della carta stampata italiana di fronte a un massacro di civili siamo a 8.000 morti tra l'altro oggi L'hai contati tu? Oggi i morti a Gaza hanno superato i morti di Serbrenica di fronte a questo appunto abbia preso un articolo che io ho scritto L'hai scritto o no? E posso rispondere? No, l'hai scritto o no? Posso rispondere? Posso rispondere? Grazie L'hai scritto o no? Posso rispondere? Sì, l'ha scritto, l'ho scritto, l'ho scritto Per quanto riguarda invece quello che ha detto lui Io cito esattamente questa dichiarazione di Bush dopo l'attentato delle Torri Gemelle Gli americani non si devono aspettare una sola battaglia ma una lunga lotta che avrà momenti pubblici e momenti segreti Tutti gli stati del mondo devono decidere o con noi o con i terroristi Questo lo disse Bush nel 2001 dopo l'attentato delle Torri Gemelle o con noi o con i terroristi prima della guerra in Afghanistan dopo 19 anni di guerra con i terroristi si sono messi d'accordo elevandoli a interlocutori gli stessi americani i padroni del governo e di giornalisti come Bocchino che sono i loro padroni cioè loro ormai non pronunciano A senza prima aver consultato diciamo le dichiarazioni della Casa Bianca Qual è il senso? Io condivido pienamente le parole del segretario dell'ONU Guterres fino a che penseremo che l'unico modo di sconfiggere il terrorismo sarà sterminare una popolazione il terrorismo verrà amplificato dunque tutto quello che ho detto significa cosa Floris? Che se non si rimuovono le cause del terrorismo il terrorismo si amplificherà questo lo pensavo allora e lo penso anche oggi Per me è importante tenere il punto assolutamente Save the Children a Gaza un bambino morto ogni dieci minuti Ma io questo l'ho detto Io questo l'ho detto Sto parlando Parla, hai parlato tu Un po' di educazione A Gaza un bambino ucciso ogni dieci minuti dichiarazione del presidente Lula di sinistra un tempo anche sostenuto dalla professoressa Non si tratta di discutere su chi ha ragione e chi torto Io sono di sinistra e l'oltre dico Su chi ha dato il primo colpo e chi il secondo Il problema è che non è una guerra è un genocidio che non ha ucciso Tu sei prendi le patti Duemila bambini che non c'entrano niente con questa guerra Non sono vittime innocenti Se uno non può replicare evidentemente non avete importanti argomentazioni se non fate parlare Fate una brutta figura Come no? L'ultima cosa Mi meraviglia la professoressa che di fronte ad una strage oggi in un campo profondi di 400 persone stia citando un ragazzo che ha strappato la bandiera di Israele Di fronte a 8 mila morti la professoressa parla di una bandiera strappata Si vergogna Brevemente a parte voi definite un errore degli americani 600 mila morti tra dirette e indirette morti in Iraq L'ho considerato un errore Pensa al linguaggio Sto replicando Due Questo è un rapporto di Save the Children nel 2022 Per i bambini palestinesi il 2022 è stato l'anno più letale Il numero di bambini uccise dalle forze di sicurezza e dai coloni israeliani nella Cis Giordania occupata è raddoppiato rispetto all'anno scorso La stessa dinamica perché prima parlavo di Ucraina Ucraina e anche il conflitto medio orientale qual è? Rimuovere il passato Oggi tutt'oggi in Cis Giordania nei territori occupati ogni giorno è caccia al palestinese Ne sono stati assassinati 150 non a Gaza nei territori occupati negli ultimi tre settimane in territori dove per tutte le risoluzioni internazionali le forze di occupazione israeliane non dovrebbero starci ma proliferano ci sono colonie illegali per le Nazioni Unite e c'è un atto di colonizzazione per cacciare i palestinesi cosa che per me una frangia anche del governo più estremista di Netanyahu i famosi sostenitori di Goldstein colui che fece l'attentato a Ebro nel 94 vogliono fare anche a Gaza ovvero espellere gli abitanti di Gaza e magari buttarli verso il sine egiziano sperando che venga aperto il valico iniziando con i feriti questo è punto se si dimenticano se si dimentica la genesi dei conflitti non si lavorerà mai per la pace in questo paese concludo non si comprende scusa l'ultima frase non si capisce ma questo è italiano la differenza tra comprendere un fenomeno e giustificare un fenomeno è un problema di italiano solo con il studio cartello 12 queste le esplicite parole del premier israeliano Netanyahu ieri in conferenza stampa la Bibbia dice c'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra ora è il tempo della guerra Israele è pronto a combattere Di Battista e questa evidentemente è la narrazione di Netanyahu è utile per una parte della sua pubblica opinione grazie a Dio per tutta perché poi è minimi storici e fondamentalmente ha lanciato una guerra santa una guerra di religione tra l'altro io credo anche che sia sbagliato chiamare quella in Palestina a Gaza una guerra perché dall'8 ottobre ad oggi morti civili israeliane zero grazie a Dio morti civili palestinesi 8500 non è una guerra è un massacro io ricordo l'ho ricordato poco anzi quello che disse Bush dopo le Torri Gemelle o con noi o con il terrorismo poi dopo 19 anni di guerra 2000 miliardi di dollari spese dagli americani vittime civili enormi e anche dei nostri militari uccisi in Afghanistan sono scesi a patti con i talebani hanno di fatto firmato un accordo ricordo quello che venne detto nel 2003 o con noi o con Saddam Hussein che armi di distruzione in massa quelle armi non c'erano è stata creata una guerra che ha distrutto un popolo un paese 600 mila morti tra morti dirette e indirette 600 mila basata su una fake news sulla più grande menzogna degli ultimi 20 anni poi ricordo c'era Forza Italia al governo anche se Berlusconi era riluttante per me questo ha sempre aggravato la sua posizione con chi state con Gheddafi che massacra che viola i diritti umani al popolo libico o con le democrazie poi si è scoperto anni dopo che la guerra in Libia non c'entrava nulla con i diritti umani la stessa dinamica Floris oggi con la guerra ieri anzi non si parla più con la guerra in Ucraina state con Putin o con il mondo libero e poi abbiamo fatto sterminare di fatto anche civili in divisa o come i soldati ucraini e anche lì c'è stato lo scontro di civiltà oggi Netanyahu fa la stessa cosa per fare che? per spingerci a non pensare a non esercitare il pensiero critico e dire dobbiamo stare dalla parte della luce contro le tenebre guardi vedete qual è io mi rivolgo sempre soprattutto a casa la differenza tra delle persone che hanno determinati posizioni e oggi la classe politica che sembra molto appiattita da destra a sinistra in Italia che io personalmente ho condannato 27 miliardi di volte quel che è avvenuto il 7 ottobre nessuno condanna quel che è avvenuto il 6 ottobre quel che è avvenuto il 5 ottobre quel che è avvenuto il 4 il 3 l'1 gli ultimi 17 anni durante i quali si è costruito un lager una vera prigione a cielo aperto a Gaza che è grande come un terzo del comune di Roma ci sono 2 milioni 200 mila persone che non possono fuggire dalle bombe prima Moulet ricordava i 39 bambini ancora una tragedia enorme è giusto ricordarli perché non si ricordano i 4 mila bambini che sono morti negli ultimi 3 settimane 4 mila siamo arrivati Giovanni alla gerarchia dei morti cioè il morto con una pelle diversa o il morto che non ha supportato dall'establishment da Washington da questo potere diventato così una melassa conta di meno dei 4 mila morti palestinesi perché perché non hanno il colore della nostra pelle io quello che contesto appunto e la storia purtroppo mi dà ragione negli ultimi 20 anni da quando è stata iniziata appunto la guerra al terrore il terrorismo si è moltiplicato sono nate nuove sigle è arrivato in Europa l'Isis non c'era prima Al-Qaeda non si era anche diffusa in altre posti del mondo questo perché perché se si pensa di colpire di estirpare come diceva il vicepresidente della Camera il terrorismo islamico uccidendo civili oggi l'UNICEF io ve lo dico l'UNICEF non di Battista l'UNICEF ha descritto Gaza un cimitero di bambini l'UNICEF viene elogiata sempre questa organizzazione se si pensa di estirpare il terrorismo trucidando donne oggi ho visto un'immagine io non riesco a dormire da giorni perché seguo una pagina Instagram che si chiama Aion Palestine e mi piacerebbe che come giustamente Flori sono state diffuse le immagini del massacro dei rave venissero anche diffuse le immagini dei massacri incredibilmente più amplificati che avvengono in quest'ora Gaza su tutti i tg nazionali io penso che ci sarebbe una sollevazione democratica della pubblica opinione tale da spingere magari dei politici ad assumere delle altre posizioni Fabrizio Roncone prego Corriere della Sera il potere di uccidere per Marsile in libreria prego la risposta di Moulet e poi parlare fin quando ripeto se sentiamo il vampiro che dall'esilio dorato di Doha dove vive ben lontano da quello che accade insieme ad altri vigliacchi come lui che incitano all'odio e alla violenza e non capiamo che se prima non si fermano i predicatori dell'odio che fomentano Hamas e il popolo palestinese la chiamata sua non è ad Hamas è ai palestinesi cioè chi tiene in ostaggio la palestina è quella gente là e fin quando anche qui non si ha il coraggio di dire sapete cos'è quella persona lì va messa in condizione di non nuocere va arrestato va chiuso in una prigione va buttata la chiave lui come tutti quelli come lui ecco il tuo certo sterminando sterminando 8000 civili danni collaterali sterminando 8000 civili ma perché non condannate un massacro tutti condanniamo i massacri non l'avete mai fatto se tu che non dici parole chiare e non dicendo parole chiare tu sai che fomenti menti che sono assai deboli la prova ce la resta fomentiamo sai che è successo in via Dandolo qui a Roma ah sì sai che è successo parli adesso sono fomentatore antiserita fomentatore perché tutto questo clima poi fa che ci sono 862 atti contro gli ebrei in Francia il 400% in più da 7 ottobre gli atti contro antiserismo in America in via Dandolo ci sono le pietre di inciampo lo dico sempre ai tiktoker che non sono dei sampietrini messi male le pietre di inciampo sono quelle pietre dove c'è una placca di ottone dove sono incisi i nomi dagli ebrei deportati e purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi non tornate in Italia bene stasera hanno dato fuoco a due di quelle pietre di inciampo a Roma posso replicare? breve e poi Fabrizio Roncone quindi ha sollevato il tema dell'antisemitismo che esiste c'è sempre stato ed è una piaga viene oggi utilizzato come settimana scorsa credo Bocchino utilizzò il tema dell'olocausto per giustificare il massacro che viene fatto a Gaza e come dire la stessa dinamica siccome Israele è democrazia può tutto questa è un'immagine dei due manifestanti ebrei americani che mostrano un cartello i miei nonni sono sopravvissuti all'olocausto per vedere Israele commettere genocidio a Gaza la settimana scorsa sono stati arrestati 300 cittadini ebrei americani fantastiche persone che hanno occupato il Grand Terminal Station cioè la stazione di tre di New York dicendo non in nome mio non parlando dell'olocausto noi non c'entriamo niente non si può massacrare un popolo dimenticato parlando di questo e questo fanno gli ebrei questo dimostra che l'antisemitismo è un modo per nascondere i massacri dei civili palestinesi il popolo veramente più vittima al mondo gli ultimi degli uomini ma solo per dire che la differenza tra e che là si manifesta in palestinale no ma soprattutto qui si manifesta dicendo Israele nazista Israele camera gas riaprite forni mi pare una differenza abbastanza io sono responsabile di quello che dico io scusami Ronconi Fabrizio Ronconi no ma io ho visto male o mi ricordo male ma lei di Battista sabato scorso non ha partecipato a una manifestazione a Roma tra l'altro insieme a dei fascisti durante la quale sono sì sono dei fascisti adesso 30.000 persone fascisti no scusi lei non si è accorto scusava accanto a delle sigle di estrema destra orgogliosamente fascisti si informi accanto a chi sfila si informi accanto a chi sfila si riandrai domani mattina e comunque se ci riva domani mattina eviti di far strappare la bandiera di Israele appunto perché è stata strappata la bandiera di Israele ma questo per la cronaca io faccio il cronista e puntualizzo i fatti di cronaca la cosa che invece secondo me stasera ancora non è chiara in questo dibattito è questo sovrapporre Hamas alla questione alla grande questione sacrosanta questione palestinese le chiedo lei stasera è in condizioni di dire questa frase Hamas è un gruppo terroristico l'ho detto 800 volte quindi lei è un cronista disattento vedete come ragionano i cronisti disattenti vengono qui e di fronte a oggi sono pochi minuti fa sto replicando sono stati assassinati 400 civili nel campo proprio di Jalabsa e arriva il cronista che diffama 30.000 persone che hanno manifestato sto parlando e che dice è stata strappata una bandiera di Israele di fronte a 8.000 morti di 4.000 bambini e il cronista non ricorda quello che in questo studio ho detto 800 volte chiamando Hamas organizzazione terroristica l'ho detto il cronista disattento che equipara prendere una bandiera strappare una bandiera dalla FAO a 4.000 bambini morti ecco la stampa italiana ma poi vi lamentate perché non vi legge più nessuno replicare un colpo sistemato ma questo di dire tre parole di Battista è nervoso come se no no io dico e difendo le mie posizioni non sono schiavo di un establishment lei cambia posizione sono una persona libera grazie a Dio lei è noto per cambiare posizione sì come no è noto lei mi ricordo voleva trattare con l'Isis è vero o no gliela ha dato a bocchino praticamente studiere assieme un po' di fantasia e di umanità prego la replica non è una replica la studia insieme a bocchino la tesi però gliela ha chiesto ha detto che l'aveva scritta in un contesto lei teorizzava che avremmo dovuto trattare con quei criminali furibondi di nuovo parla come bocchino e di nuovo e che erano degli apostolati della preghiera e quelli si sono morti oggi state parlando di un articolo i tredici ma dove state vivere ma perché la qualifica sa perché perché c'è un massacro in atto e ne soffro umanamente cosa che evidentemente a voi non tocca ma come no perché avete perso l'umanità per cosa ma no per viltà per viltà avete perso l'umanità non vi tocca non vi tocca un massacro non vi toccano le madri gli orfani non vi tocca niente ma perché non lo condannate ma voglia ma sono tre ore che ti chiede di dire Amas è un gruppo terrorista non lo voglio Amas è un gruppo terrorista quattro parole e che ci vuoi il battista ha detto che Amas sono terroristi e l'ha detto prima in questo istante vi siete distratti l'ha detto si si lo vuole ritirano l'anno scendita no e non lo voglio non parla però se ora non lo dice creare equivoco no 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 io il 7 ottobre venuto qua ho condannato l'attentato terrorista non lo dice pretenderei il desiderio da parte di questi interlocutori di condannare il terrorismo di Stato che compie Israele da troppi anni lì dentro perché il terrorismo è sempre da condannare quello dal basso e quello di Stato scusate allora quello che dicono Ronconi e Mulevic per chiedere le mie stesse aspetti lei sta condannando l'attacco terrorista loro dicono può condannare il soggetto che ha portato è un'organizzazione terroristica l'ho detto 800 volte quale? ma perché non dici a massa? piccola pausa ma perché non lo dici? sistemati